Il premio Bambagella, la massima onoreficenza che il Comune di Filine in Cisa Valdarno assegna annualmente a coloro che si sono distinti per meriti ed impegni particolari, quest'anno è andato agli operatori dell'ospedale Serrestori. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri, 2 giugno, all'Arena del Teatro Garibaldi di Filine nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Per il vostro costante impegno si legge nelle motivazioni per la dedizione e la professionalità dimostrate per i vostri turni infiniti, per la vostra resistenza in prima linea, nonostante il rischio e la fatica, per tutto quello che state ancora facendo, semplicemente grazie, con profonda stima e riconoscenza. A ritirare il premio e rappresentanza di tutti gli operatori dell'ospedale sono stati il dottor Andrea Bribani, direttore della medicina interna a seconda Osmas e Ristori, e il dottor David Cajani, coordinatore infermieristico. Durante la serata sono state consegnate anche delle targhe di riconoscimento alle associazioni di protezione civile del 118 del territorio per il loro continuo impegno in favore della comunità durante tutte le fasi dell'emergenza pandemica. Premiate dunque le associazioni di protezione civile 118, GAIB, Filine, Proce Vincisa, Croce Azzurra di Filine, Croce Rossa d'Incisa e Misericordia di Filine per l'impegno profuso e l'indispensabile aiuto offerto durante il periodo di emergenza Covid-19 nel servire la comunità con profonda stima e riconoscenza. La serata è poi proseguita con l'esibizione degli ottoni dell'Hort Ensemble, il quintetto di fiati dell'Orchestra della Toscana, con il concerto Le Grandi Colonne Sonore, una selezione di musiche legate a grandi film che hanno fatto la storia del cinema. Volerci essere anche quest'anno e volersi ritrovare nell'arena del Teatro Garibaldi ha il significato proprio della ripartenza e della rinascita finalmente dopo tanti mesi così complicati e abbiamo voluto farlo anche con lo spettacolo Dal Vivo e con la musica, un ambito quello culturale che è uno di quelli che ha sofferto maggiormente i lockdown e le chiusure. E poi una festa della Repubblica dedicata anche alla solidarietà e al servizio perché abbiamo premiato sia gli operatori sanitari dell'ospedale Serri Stori sia le associazioni del volontariato di protezione civile e del 118. un segnale concreto di come la nostra Repubblica resti in piedi anche grazie al lavoro prezioso di chi si mette a servizio della comunità. Siamo molto contenti di questa festa che abbiamo voluto veramente organizzare in presenza dopo tanto tempo. Questo perché rappresenta un primo passo per una importante ripartenza dopo questo lungo periodo brutto che abbiamo trascorso.